Marcella Rolandi e Valentina De Martino, ci spiega bene Marcella Rolandi, no? Perché l'ufficio scolastico regionale poi ha degli ambiti territoriali e Marcella Rolandi è il responsabile dell'ambito territoriale di Pescara, vero? Ho detto bene? Benissimo, bravo, complimenti. No, non era facilissimo. Io ricordo una cosa, che ai tempi miei, ma forse anche ai vostri, no? Tutte queste belle attività non si facevano, cioè sono stati fatti dei miglioramenti grossi, Sono stati fatti dei miglioramenti proprio anche per la buona volontà e la partecipazione e l'impegno di tutti i colleghi che sono all'interno delle scuole e che si danno da fare nonostante le grosse difficoltà che il mondo della scuola ha ancora a far partecipare i ragazzi a ogni proposta sportiva, in questo caso, che si offre. Valentina, invece, la coordinatrice delle attività sportive del CONI. Come siete organizzati anche questa mattina qui al Paleletra 2 di Pescara per Giochi sotto l'albero? Allora, quest'anno abbiamo coinvolto le scuole superiori di primo grado di Pescara e nella manifestazione Giochi sotto l'albero proprio per concludere le cose organizzate dal CONI durante l'anno. 9 scuole si sono date da fare per poter portare i ragazzi qua e facendo provare un po' tutti gli sport, dal tiro con l'arco, pallavolo, eccetera. Insomma, sport anche che a scuola non si fanno, tipo il tiro con l'arco, il badminton, è difficile che si faccia. Quindi speriamo che vada tutto bene, però, insomma, l'inizio... Come dice il Presidente Imbastaro, e qui chiudiamo, poi vi faccio fare gli auguri di buone feste ai nostri amici che ci seguono. Come dice il Presidente Imbastaro, l'obiettivo sarebbe anche creare qualche, insomma, importante atleta, ma soprattutto bisogna creare i buoni cittadini del quotidiano, del futuro, vero? Eh, certo, questo è importante. L'obiettivo principale, a parte l'atleta, che, insomma, è proprio trovare, vedere i ragazzi vivere nel mondo dello sport, che non è solo l'attività agonistica, ma è più importante questo, l'aggregazione che... Gli auguri li faccio fare, invece, a Marcella Rolandi. Marcella, nel cassetto dei regali, diciamo, anche per il 2018, lo sport, la scuola, cosa dovrebbero trovare? Allora, intanto io volevo fare una precisazione per questa manifestazione di oggi, che è una bella collaborazione tra Miur e Coni. Questo è un, diciamo, un inizio e spero che nel 2018 ci siano altre attività di questo genere che apportano a braccetto queste due belle forze sportive. Quindi Miur, con tutto quello che è il coordinamento dell'attività e dell'educazione fisica e sportiva, che poi è diretto dal nostro coordinatore, il professor Antonello Passacantando, e il Coni, e in questo caso col presidente Enzo Imbastaro, a braccetto proprio per, ed ecco il sogno nel cassetto, per far sì che l'attività motoria, sportiva, lo sport, siano al primo posto veramente nelle scuole, nel mondo dei ragazzi, perché è con lo sport e con il movimento che si cresce in tutti i campi.